Non credo che ci sia questa differenza soltanto perché noi siamo davanti a tutti. No, adesso le partite diventano importanti, perché ogni squadra ha degli obiettivi da raggiungere. E siccome mano a mano le partite diminuiscono, è normale che diventano più consistenti e più, come posso dire, di spessore superiore a livello agonistico che magari ci è stato prima. Anche se questo è un campionato in cui, essendoci sempre grande equilibrio, l'agonismo non è mai mancato. Portare a casa tre punti per uscire dalla zona rossa della classifica. Non siamo partiti benissimo nelle partite in casa. Dobbiamo cercare di invertire la rotta e di portare un risultato utile in casa e anche per i nostri tifosi. Spero che ci diano una mano, come hanno fatto anche a Cosenza. Spero che ci diano una mano anche in casa con il Catania. Affrontiamo una squadra forte, con giocatori di qualità. Sicuramente dovremmo stare attenti a non concedere troppo a loro, perché comunque hanno gente brava, soprattutto davanti, che ci può mettere in difficoltà. Quindi dovremmo fare una partita accorta e non concedere ripartenze che soprattutto nelle ultime partite in casa abbiamo sofferto. Magari abbiamo concesso qualche contropiede di troppo.